Bene, dunque, Domino finalmente è riuscita a entrare e io penso è un momento così importante per questa cantante che bisogna farla venire, no? Siete tutti d'accordo? Era rimasta bloccata. Allora, Domino, vieni, dove sei? Eccola qua, vieni, la porta Pierino. Allora, ti sei persa per la strada, eh? Ti presento mai buongiorno. Eh, ma ci conosciamo, eh? Ok, guarda che bel premio che hai qua, eh? Sei contenta? Ecco, allora. Posso dire soltanto due parole? Certo, mi date un microfono per favore. Allora. Io non vorrei essere banale, comunque vorrei ringraziare veramente tutti coloro che mi hanno dato questo premio e vorrei dedicarlo a mio padre che è stata la persona che mi ha dato, mi ha insegnato tanto sia nella musica che nella vita e al mio produttore Luigi Lopez che ha lavorato tantissimo per me e poi a tutti i miei discografici. Grazie. Brava. Ok, ci vedremo in qualche altra trasmissione. Ciao. Ho qui il secondo classificato. Ciao il secondo classificato. Siamo tempestivi, tieni mai. Bravo.